Che cosa significa essere diversi? Essere diversi in questa cultura significa non cedere alla sottomissione, significa non dimenticare che si vive una sola volta nell'arco intero dell'eternità e che questa occasione va vissuta nel migliore dei modi. Significa anche scoprire che ogni essere umano è un assoluto capolavoro. Io ho proprio questa fissazione. E da quando ho scoperto questa cosa, tanti anni fa, quando andavo in giro con un sacco a pelo e con mille lire in tasca nel Medio Oriente, in Africa, e mi svegliavo nei posti più strani. Davanti a me c'era sempre una donna con un piatto di cibo, un uomo con del formaggio, del pane, e nei loro sguardi c'era un'infinita maternità e un'infinita paternità. Io mi sentivo adottato da questa nuova vera famiglia che era quella di 6 miliardi di persone.